Ciao a tutti Io sono mamma Claudia Io sono Aurora Io sono Spaccata Ma cosa c'è dalla spaccata? Scusate ma vi sembra il modo di iniziare un video con un piede in faccia? Lei è Noemi Elastiker E' Dio Vediamola che ho spaccata Attenzione un 50 di piede in faccia Guardate di nuovo Brava bravissima Aurora Andiamo avanti Pronto? Pronto Ma non si sente niente queste cuffie non funzionano Va bene Noi siamo i Cavaleri Family Mi hanno ufficialmente fregato stavolta Prima di cominciare a guardare questo nuovo coloratissimo video Della famiglia cumpazza del web Iscrivetevi al canale Cavaleri Family E cliccate sulla cartonella Oggi siamo qui per fare un video Bellissimo Che video è questo Auri? Tree marker challenge Bravissima Giusto Emi? Oggi faremo il tree marker challenge Con le mani Brava Auri Coloreremo in un modo un po' diverso dal solito Aurora Domandona Ci avviciniamo ad una festività che è la Pasqua Bravissime Quindi il nostro tree marker challenge sarà sulla Pasqua Vediamo le immagini che abbiamo scelto Pulcini I coniglietti E poi non può mancare Tuoi Pasqua Allora allora io direi di partire con Coniglietto Coniglietto come sei dolce amore Partiamo dal coniglietto Un coniglietto per Emi Uno per me Un altro per me E uno per Auri Lo scopo del gioco è sempre lo stesso Bisogna pescare tre colori Con gli occhi chiusi No Chi parte? Io Allora dovete sapere che di solito Aurora ha sempre barato In questo gioco Oggi ha detto che vuole essere onesta e corretta Giusto? Tappo io gli occhi No io Pronto Auri? Tre colori Uno Due Tre colori per Auri presi Tappiamo gli occhi Emi No non vale Tocca a me Chi è che mi tappa gli occhi? Oh ma questa è una sberla Oh i due addirittura Allora tocca a me Io so già che pescherò un disastro E qualcuno ride Qualcuno ride Qualcuno ride La Mamma mia Ragazzi Ho pescato il verde scuro Mamma mia Il marrone E il blu Mamma ti dicono cosa Se c'è il bianco puoi mischiarlo Brava Aurora Sei proprio furba Tu potresti creare volendo un altro colore col bianco Hai la visione? Ciao Già ci ha fregato Aurora È troppo esperta Iniziamo ad aprire i nostri colori E voilà Stop Un po' di turchese Eccolo qua Stop Emi vai con i tuoi colori Rosa per Noemi E per ultimo Emi aveva pescato il giallo Io direi dei bellissimi colori E ora tocca ai miei colori ragazzi Blu Il verde scuro Proprio dei colori Guarda proprio pasquali E marrone Voilà Ok Siamo pronti per la prima challenge? Sì Sì Ho quasi finito le mie orecchie del coniglio Ma cosa ridi? È difficilissimo Io ho quasi finito già Beh beh Il mio è più bello del tuo Il mio è più bello del tuo Non mi rubare colore Non mi rubare colore Perché io ho già quasi finito Il mio No 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 Ho quasi finito Già devo sbrigarmi Questa mi sta rubando tutto il colore È diventata furba Poi non ho più marrone Vi ricordo che dovete cambiare dita Guardate Io ho fatto con l'indice il marrone col medio Sto utilizzando per fare gli occhi azzurri E ora uso l'anulare per prendere il verde E fare l'uovo di Pasqua Il mio è più bello del tuo No il mio è più bello del tuo No quarto Emi a che punto sei tu? Auri il tuo è molto bello Fallo vedere Brava Il tuo è molto bello E io mi devo mischiare colori eh Ho utilizzato il verde Il blu E il marrone E questo è il mio coniglietto È il mio coniglietto colorato con le dita Ho utilizzato tutti i colori Vi piace? Io ho finito La 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 Vediamo Aurora Ah Auri il tuo non è male Sei stata geniale Hai mischiato col bianco Il rosso per creare Non è rosso Ti mancano ancora questi due colori Se no non è valida Eh la tua challenge Emi a che punto sei? Brava Stai utilizzando tutto rosa Guardatela Brava Emi Ma il tuo coniglietto è tutto bello colorato Allora ragazzi Tempo scaduto Facciamo vedere tutti e tre Il capolavoro Vai Auri Il tuo coniglietto pasquale Dipinto con le dita Pronti? Aspetta 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 Guardate guardate quello di Auri Che è molto bello Brava Auri Tutti i passi per lo sbaglio Molto molto bello Bravo Tutti i passi per lo sbaglio Voi non potete vederla ma lei sta facendo il suo balletto Questo invece al centro è il mio coniglietto E questo è quello di Emi Super coloratissimo Scrivete giù nei commenti Chi ha vinto la prima manche Io Io Andiamo avanti con la seconda manche Pulcino Vuoi il pulcino? Sì pulcino Prendiamo il pulcino Prendiamo il pulcino Ed ecco qua il pulcino Di nuovo peschiamo i tre colori Io vi attacco da sola No provate Ti attappi Ti attappi che? Gli occhi? Ma siete partite così? Uno due Così tre Emi mi ha presi tre Anche Auri Guardate che colori mi hanno lasciato C'è una tristezza Tocca a me Uno Aia Vai Aia Due E tre Aiuto Emi ma gli stai mettendo tutti i colori uno sopra l'altro Piano Ma quanto nero Guardate che pacello Di colori Questi sono i miei Rosa, arancione e rosso Io c'ho quanti i colori Questi gli Auri Ma quanti colori ti sei messa? Sei una ladrona Mettiamo il verde E un piano Basta Basta Ma quanto ne ha messo ragazzi Aiuto No Aiuto Quanti colori ha messo Noemi Qui c'è un macello di colori Finirà male Finiremmo tutte pastrugnate Già lo so Un macello Siete pronte per iniziare? E allora tre Due Uno Via con la seconda match Auri ma cosa stai facendo? La firma? No Scusami eh Ma devi colorare il pulcino Un attimo Secondo me perderai Emi ma tu non devi seguire quello che fa tua sorella Oddio con questo nero un macello Parto io Parto io Ho deciso Allora Io ho rosa E quindi Subito dipingo Il mio bel pulcino Di rosa Sì 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 Un bel pulcino rosa Via via rosa Tutto rosa Tutto rosa Tutto rosa Anche il corpicino Del mio bel pulcino Auri Ma cosa stai combinando tu? Stai facendo i ghidi gori attorno al pulcino? Ma lo scopo del gioco è colorare l'immagine Usiamo questo Wow Arancione con questo dito Facciamo qua guarda Tutti i pallini La 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 Ah gli stai facendo le guancio Brava Stai facendo il pulcino giallo Auri C'è un po' di larancione Per fare il becco È vero Auri Attenzione a Calimero Abbiamo qui Calimero Il pulcino tutto nero Lo dirò Emi È un miscuglio di nero Ed eccola La mano Lo sapevo Che finiva così Questa giusta Sui vestiti Le mani completamente sporche Lo sapevo che finiva così Lo sapevo che finiva così Meno male che sono lavabili Questo è il mio pulcino Il pulcino di mamma Claudia Il pulcino Da 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 Questo è il pulcino di Aurora Colorato molto bene Molto molto bene Brava Sì ciao Che questo nuovo coloratissimo video Vi sia piaciuto Prima di lasciarvi Ricordatevi di Iscrivervi al canale Cavaleri Femmini E cliccate sulla campagna Ma ricordatevi Noi siamo i Cavaleri Femmini Femmini Chiudiamo con i nostri dipinti Guardate Guardate Eccoli qui Uno Due E tre Buona Pasqua Ciao